ah abbiamo ancora questa benissimo benissimo e aumentiamo la destrezza poi la tempra perché serve ancora un po di vigore e facciamo destrezza a 22 no facciamo tempra a 22 dai ora possiamo decidere dove andare e la strada migliore è proprio di qua ma mi servono delle anime sposta percorso abbiamo anche usate troppissime di anime vediamo un po va bene qui dovrebbe esserci eccolo qua è ma non ci parla perché non mi ricordo che statistiche servono dovete sapere che io odio quest'area ci da ridere qui ci sono le eccole qua le farfalle dai veloce però ok ci sono anche questi gli oggetti ok e li voglio prendere li voglio prendere come si prendeva più a no 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 dopo è nella parte sotto dopo ok ok e guarda che ti ho visto è inutile che stai lì no ok apriamo tutto apriamo tutto qui non mi ricordo mica già cosa conviene fare aia pianissimo wei costume del manichino eccolo qua da ladro ci sta scendiamo qui che voglio dov'è maledetto no 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 ok ok con questo facciamo dei danni con il backstab ah qui c'era uno invisibile aspetta no oh eccolo qui ok ma benissimo benissimo dov'è è quella che fa anche danno elettrico eh sì esatto esatto oh bene bene un'arma ebbè ora sì che si combatte per davvero uh gemme 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 bene 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 questo salto qui lo facciamo dopo il falò sapete tutti bene perché e vai pronti dio mi dia la forza oh benissimo benissimo che culo che culo oh bene vai ah il saltone super fortissimo oh eccoci qua dove volevo andare io prima ricettacolo bene 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 così almeno se dobbiamo cambiare le statistiche lo facciamo tranquillamente tu via che no eh vabbè niente ok aiuto no 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 fermo lì con quella polverina scendiamo di qua eccolo qui il guerriero del male no mi avvelenato no mi avvelenato gemma veloce ti prego ah bene ne facciamo di danno però dai ma sì ma 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 lo distruggiamo completamente questo qui che schifo via oh bene avvelenato eh chi se ne frega ah scudo bene 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 sono contento ci arriva benissimo effige uh dimmi che droppano tutte effigi farmiamo qui non cadere eh sì bello bravi complimenti stavo cadendo malissimo adesso andiamo a voi è vero c'eravate anche voi le farfalle ci sono eccola lì appunto vai benissimo droppami le figi oh che bello si farma oh no dio uh stiamo ancora nel peso però bello però così sono umano no sì è perché volevo lui esatto un'altra effige vieni vieni forlorn che ti faccio vedere io che vuoi fare come in berserk ahia beh pensavo peggio in realtà eh saranno i gambali ma no perché l'ho fatto perché l'ho fatto che idea e che palle però dai fermo dai fermo com'è a una mano ah va bene eh ok pantaloni del santo beh almeno sono più leggeri ah non posso usarli con le mie caratteristiche ma chi se ne frega e qui c'è lui dov'è bravissimo campione mamma mia quanto siete scemi ale ai chihuahua bene roll ok torcia spada del sole niente buttiamo via l'ascia è così ah ok no pensavo richiedesse fede allora bene a posto devo dire che sta andando molto bene oggi aia aia no i cani ok bracciali dei variaghi è un attimo voglio andare prima di là e ci togliamo il dente salve voi siete proprio dei simpaticoni guarda però non ha droppato io sono triste di questa cosa bravissimo artiglio della cenere qual è più aumenta la resistenza alla petrificazione e qua c'è l'esercito però possiamo farli venire uno alla volta no abbastanza facilmente se mi ricordo bene ora qui ale sì ok gli altri sono ancora tutti lì io prego di riuscire a farlo first try il boss che c'è qui perché non ho voglia non ho proprio voglia di ricombatterlo per quanto bello è perché comunque mi piace aia maledetto tu la stamina aia che calcione pietra grezza meno male vieni oh bravo sono fortissimi i coltelli tra l'altro ma che è sì mamma mia lui lui è veramente fastidioso perché non gli puoi fare il backstab se non ricordo male guarda ti prende di sbiechissimo con lo spadone via lo scudo guarda che te lo sfondo eh no lo sapevo lo sapevo per far cadere la gente qui bisogna fare questo salto un po' improvvisato così oh meno male bravissimo bravissimo finalmente finalmente cambiamo elmo oh guarda che bello è tornato il problema ancora di più è il salto del ritorno e lo sapevo guarda che rottura di palle tra l'altro tutti i drop lì mamma mia ero morto ti prego oh meno male meno male aia ma no pure tu ma ma perché ma perché pure lui eh buonanotte però dai no dai basta 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 eh no eh no ma che palle dai facciamo che vado a maggiula mi prendo tutte le gemme che posso con questa vado e torno guarda ora ho preso le gemme magari ce la facciamo anche aspetta 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 eh no dai sono un deficiente sono un deficiente guarda io volevo anche farlo il carro del boia però aia però a sto punto non possiamo stare cinque anni qui quindi andiamo prima di qua uh i vasi è vero maledetti allora uh veste da mago del leone gambali di lois subito ti ho visto eh so dove sei mica scemo ale di qua era chiuso però ok però intanto abbiamo ucciso lui quindi va benissimo guarda mamma mia ste orde un musou ah è vero è vero è vero roenna vai vieni vieni e vabbè wey è venuto ed è già morta niente roenna poverina qui c'è la chiave no oltre eh sì grazie mi hai coperto però sì c'era la chiave dai cos'era con la freccia il predict no dai bravo se magari non spammi guarda andiamo immediatamente ad aprire il falò perché guarda salve c'è anche lui ovviamente non mi siedo perché non voglio far responare tutti sti qui tra l'altro come sono morti loro qui ah no 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 dov'è eh lo sapevo guarda e vai via e figi eh grazie per averle fatte cadere lì piano sto fluttuando ok grazie 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 e qui ah ok salve dove era più l'evocatore qui aiuto ah eccolo è vero era eccolo che ti bersaglia ok ok oh no le termopili aia 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 piano a noi due ok quello con la corona tra l'altro anima di velstat eh dai oddio come si faceva più qui senza ammazzarsi giù ti prego perfetto ah elmo di lois beh sembro una rana però tanto non la prenderò mai e invece l'ho presa una volta però e due anche bene e che guanti mi devo mettere gli ultimi copricapo da sacerdotessa no la mia rana io ho bisogno di un attimo lama doppia ah è quella che avevamo già e che non possiamo usare potrei avere un'idea per spero sistemare questo problema siete tutti in tipose mamma mia cosa è successo qui non posso usare il falò ah certo eh che palle però dai ci metto tre quarti d'ora ho i coltelli però attenzione ebbe fortissimi noi abbiamo l'anima di velstat l'anima di velstat che dà 15.000 oddio anche questa 5.000 ah e allora mi sa che l'unica è usare il ricettacolo e cambiare le statistiche intanto ovviamente mettiamo quello che ci serve a destrezza che era 26 e l'adattabilità perché per forza mettiamo almeno 20 a forza e vediamo per il resto perché per esempio vigore è abbastanza sacrificabile per esempio rimettiamo la vitalità 24 a forza e 22 a vigore dai tra l'altro avevamo battuto il ciclope qui no non l'avevamo battuto e allora vieni vieni coro l'adattabilità e altro che aia pensavo di più devo essere sincero pensavo di più alè cosa ci dai e io per cosa ho cambiato le statistiche beh però il danno c'è il danno non è niente male niente male niente male sono contento guarda siete pronti perché questa potrebbe essere dura con quest'arma qui per quanto mi piaccia l'audio le orecchie aiuto a chi iniziamo qui da te mi stai sulle balle vieni qui ok spawnate spawnate chi spawna con lui mica le ruote mica le ruote sì le ruote meglio guarda se almeno ce le leviamo per prime aiaiaiaiaiaiai wei piano mamma mia sono io la ruota qui aiuto mamma mia combattimento incredibile ti è aia queste palle di fuoco guarda anche tu hai la corona vieni vieni lui è un signore degli scheletri mancato che ci ha provato ma è andata male anche gli altri in realtà guarda non dovevo prenderlo non dovevo prenderlo ora è come quello del bastardissimo che abbiamo che abbiamo che abbiamo che ci ha menato ale e non siamo ok ok guarda quanti attacco r2 ok no volevo cambiare la direzione ok perfetto vai non finiscono mai come i rotoloni regina o le mie orecchie ringraziano tiriamo questa leva e prepariamoci perché da qui in poi è veramente un disastro